Interessanti che hanno fatto bene nel campionato di Serie B che stanno facendo e ancora non è finito. Bernardeschi è anche un nazionale under 21, quindi è un giocatore in prospettiva, è un 94, 20 anni, non so se l'ha compiuti o meno, però è un giocatore che nella rosa della Fiorentina del prossimo anno ci potrebbe stare. Babacare è già un po' più avanti di lui, più maturo, ha fatto un'esperienza anche all'estero e penso che sia più pronto in questo momento, però sono giocatori che possono essere inseriti nel contesto della Fiorentina. Poi se non costa nulla. Anche quello è importante, prelevare dal settore giovanile i giovani che si sono messi in evidenza va bene anche dal punto di vista economico, ma ci sono anche altri piccini al Livorno, un difensore laterale destro che oltre alla Fiorentina manca, però come eventuale alternativa ci potrebbe stare. È chiaro che se la Fiorentina punta a migliorare il quarto posto di quest'anno che è stato positivo per le vicissitudini che sono successe, due o tre giocatori di questo caldo potrebbero essere inseriti nella rosa.